Sì, è un po' diverso di giocare a tre centrali difendersi inizialmente di come facciamo normalmente con quattro. Quando sono arrivato qui non avevo questo ruolo di comandare la difesa, però adesso sto cominciando a farlo. In passato nelle altre squadre a Copenaghen lo facevo molto, anzi parlavo anche troppo, perché è quello che richiede il ruolo, a parlare con il resto della difesa, con i centrocampisti che stanno davanti a te, è importantissimo farlo e adesso sto cominciando a farlo anche qui. Le statistiche per me un po' parlano, non sono un difensore che segna molto, adesso visto che tutti i miei compagni difensori ormai mancava solo a Kerubin, che hanno segnato in questo campionato. Sì, non sono uno che segna molto, però preferisco, diciamo, il mio ruolo è quello di evitare di prendere gol, soprattutto. Sì, ho visto un paio di volte il Napoli in tv, è una grande squadra con grandi attaccanti che segnano molto e ha grandi giocatori in ogni parte del campo. Quindi per fare un risultato positivo dovremmo stare 100% concentrati e cattivi, battaglieri per tutta la partita, per avere delle possibilità di portare a casa un risultato positivo. Potremmo avere alcuni punti al fine del ruolo.